Avete mai pensato, donne che alla casa dedicate tutta la vostra vita, uomini che in casa non trascorrete che l'indispensabile, dove finisca tutto ciò che la vita domestica rifiuta e che a voi sembra diventato inutile. Ogni città ha i suoi sistemi di raccolta. A Milano per esempio ogni casa dispone di appositi recipienti. Proviamo a seguirne uno nel suo viaggio quotidiano. I recipienti discendono dal treno così come vi sono saliti, meccanicamente, e meccanicamente vengono vuotati. La massa dei recuperi è stata intanto sottoposta ad una prima energica pulitura. Liberata dal terriccio che stia via anche esso verso la sua utilizzazione, essa deve essere ora divisa. Prima è la volta della carta che viene rapidamente aspirata e avviata agli impianti di aerificazione. Quindi sono i barattoli e i materiali ferrosti ad essere raccolti da una elettrocalamita dentro appositi furgoncini. Inoltre affinché nulla del recuperabile vada perduto, una ulteriore selezione viene compiuta a mano. Da altre macchine escono intanto grossi rotoli di carta. cosa sarà stata questa carta in origine? Fatture? Cambiali? Lettere d'amore? La materia è trasformata o dunque essere convertita in quello che meno vi aspettate? Un po' di pazienza e vedrete.